Musica Lo abbiamo detto, una giornata molto articolata, soprattutto perché gli studenti animeranno veramente le aule di questo tribunale, come abbiamo detto a porte aperte. 800 studenti che tra poco occuperanno tutte le aule per capire che cosa succede in una giornata in tribunale. Allora, la sua presenza qui intanto come testimonial, perché siamo tutti portatori sani di legalità oggi, però con naturalmente un ruolo legato proprio alla sua attività. Legato soprattutto allo sport. Lo sport è un veicolo, è un atteggiamento, è un modo di vivere, soprattutto dai ragazzi. Attraverso lo sport, attraverso la tutela della salute, attraverso i messaggi dei valori che vengono trasmessi dallo sport, si arriva a quello che abbiamo fatto noi in 15 anni di commissione antidoping di Federcalcio. Nel calcio non c'è più il doping da tanto tempo, negli altri sport purtroppo sì, ma non perché siamo stati bravi, ma solo perché abbiamo raccolto le testimonianze e soprattutto abbiamo avvicinato culturalmente uno per uno gli atleti, dai giovani ai dilettanti e soprattutto ai professionisti, che sono stati i testimonial di un momento nel quale tanti anni fa purtroppo il doping aveva colpito anche il calcio, adesso da tanti anni il calcio è pulito. Diciamo che c'è un modo, c'è un modo per parlare direttamente agli atleti, per far capire di che cosa stiamo parlando, per far capire che non si vince frodando, si vince giocando, allenandosi e soprattutto chi froda fa male a se stesso, ma fa male anche al prossimo che è il suo compagno di squadra o magari il suo avversario. Il calcio questo messaggio l'ha trasmesso e io credo che possa essere un buon veicolo, un ottimo strumento perché in un'aula di tribunale dove mai, spero, i giovani ci si debbano trovare, questo messaggio possa diventare per loro un qualcosa da trasferire questa sera a casa, ai propri fratelli, ai propri genitori e magari domani nella scuola a tutti quelli che oggi non ci sono. Esatto perché il principio sarà proprio questo, un po' come nelle staffette, qualcuno passa il testimone ad un altro, quindi chi oggi ha vissuto all'interno di queste sale questa giornata sulla legalità potrà essere poi portavoce non solo a scuola, magari per altre classi, ma anche proprio in famiglia. Quanto è importante che le famiglie siano accanto a questi giovani e anche a quelli che praticano sport a livello agonistico? Oggi molto spesso quelli più minati sono proprio i genitori perché magari i giovani hanno qualcuno come noi che trasferisce qualcosa a loro e quindi è un rapporto che diventa inverso, sono i giovani che trasmettono i genitori, se i genitori sono intelligenti perché poi parliamo di gente giovane, parliamo di quarantenni che hanno magari, non hanno avuto la possibilità di trovarsi di fronte a una situazione del genere. Oggi la fortuna è avere un figlio che l'ha fatto e quindi diventa un qualcosa che può diventare appunto paradossalmente il contrario, il figlio che trasmette al padre e questo diventa poi un motivo di grandissimo valore per il futuro perché poi tutta la famiglia viene coinvolta in questo rapporto. Grazie. Oggi la nostra famiglia è molto grande, l'abbiamo detto, 800 ragazzi. Noi siamo tutti impegnati quindi la lasso andare perché sicuramente ci saranno dei momenti in cui sarà impegnato davvero in prima persona. Un grande ringraziamento a Ius Gustando, Ius Discutando e all'Avvocato Sotira che ha creato una sorta di sinergia per questa giornata e tra poco andremo a scoprire anche da parte loro le loro ragioni di questa giornata. Grazie. Grazie a tutti.